Bella a tutti ragazzi e bentornati in un nuovissimo video di Fortnite Oggi con la skin di Deadpool ci andremo a fare delle vittorie reali Sono appena shoppato questo E' bellissimo veramente E' la macchina sua, basta, andrò in giro con questo Qua, bellissimo Che mi sei aperto, mamma mia Mi sono messo una paura Scusate ragazzi se non registro spesso Però ho tantissime cose da fare Boh, raga Ehm, se voi mi potete suggerire Massaggio, non so Se voi mi potete suggerire ragazzi Tipo di, che uscirà nella prossima settimana di Deadpool Se me lo potete suggerire Io ne sono felice, perché almeno capisco Il robotone, se Ho detto a un mio amico che io lo prendevo e l'ho preso Mamma mia Ah Quando mi abborgo l'opino Ah, il mio bellissimo autobus Perché qui a Deadpool è tutto falso A parte voi, eh ragazzi Se voi avete Deadpool Il vostro vero e puro sangue In quello degli altri è brutto In quello degli altri è brutto Beh è falso Quelli che vi uccidono Se vi uccide un Deadpool Lui è falso Non vi preoccupate Andiamo Ah, io vi chiedo una cosa Scrivete nei commenti Cosa ci sarà Va bene? Nella prossima settimana E cosa Se voi sapete cosa succede Anche a Spu Ah, se a Spu Oh, manca Mi sembra All'agenzia Vabbè, al lago dell'agenzia Se me lo potreste dire Mi fate un grandissimo favore Perché vorrei un po' riuscire a capire Cosa sta succedendo Godo Ah, ragazzi Com'è morto Ok, no Qui dietro Niente Naturalmente Perché che ci dovrebbe stare Niente Intanto andiamo Saltiamo Qui Ah, mannaggia Non sono riuscito a prendere Vabbè, spacchiamo qua ragazzi Prendiamo questo Facciamo così Facciamo così E vabbè Apriamo sta porta Che Non serve a niente Apriamo il tetto Sarò Babbo Natale Un giorno ragazzi Per quanti detti spacco Ah, beviamoci Beviamoci Il succo Leggendario Di Il succo di Nonno Giovanni È bello questo Il succo di Nonno Giovanni Il succo di Nonno Giovannino Il succo Grosso Di Nonno Giovanni È bellissimo E c'è un mio amico Che mi manda Il patì Ma quanto è bellin Questo Piccolin Oh Basta Devo sfinirla Vabbè Intanto qua Spacchiamo Ho già il titolo Vabbè Qua Ma non l'amo Quel coso O su Ah no È una bagnere No Scusate che ci vedevo I colori del lama E pensavo pure Che era sopra L'albero Ciao Persona Strana Quella persona Abbiamo capito Che non è Normale È morta Quanti problemi Hai? Grazie Grazie Può Sucidere Volevi Godo Mamma mia ragazzi Questo io ho proprio fatto male O meglio No io ho fatto male Però L'ho proprio fregato Ma adesso Poi il video Lo dovete Lo dovete per forza Guardare sto video Ehm Qua apriamo Ehm Che facciamo Che facciamo Facciamo questo Facciamo così Ah beviamo un po' Eh vabbè Ma quanti Quanti problemi c'hai Amico mio Ma quanti problemi c'ho Che non lo becco È nabbissimo Ma muori Un colpo Godo Eh no Ho fregato Tipo tutto Un caricatore È sto Scemo Sto cosa Ma io ve lo distruggo Va Vabbè Il cacchio ne so Ma Io me lo Lo faccio distruggire Sti scemi Va Chiamone uno Sì Non capisco una cosa Qua ragazzi Andiamo a prenderci Sto medichitto Sto medichitto Dai Ma basta Ma quanti Ma quanti Ma l'ho visto io Questa cosa appena costruito Stava quello lì dentro Ma muori Eh Sto giustiziando le persone Uh l'ombrellino Il mio Bah È la spadina di Deadpool Sta cosa Aspettate che devo Se vedete qualcosa Allora Perché sto facendo Eh sto registrando Oh Ecco perché non potevo entrare Poi c'ho la skin di Deadpool E mi sono fatto 5 kill Non capisci Tutte le persone a Borgobis Slacco Tutte morte Poi dite che andava E forta qui Io mi sono scioppato Il motorino Io pure E mi sono scioppato pure Facciamo cara di motorini Clandestina No è un'altra persona No no Non è giusto No basta Basta È ignara sta cosa È ignara È impossibile Perché no Uno l'ho ucciso E ucciderò anche te Oh Ho fregato la kill E poi l'ho ucciso Raga No devi andare a guardare sto video Devi andare a guardare Ma il mio ruolo di che non sa Ma va bene Non me ne frega Ma quello che dico Dico È quello l'importante di fare video È andato in gioco La squadra cina Vabbè Ebbè Intanto sto giocando Uncharted 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 preferita cosa lanciate vabbè però senza parlare questa cosa io ti devo dire una cosa un'altra cosa ma ma vista venire su ford e non mi preoccupare e si ciao ragazzi sono io deadpool non mi vedete perché io sono entrato qua ciao ma va bene andiamo qua che è meglio grazie ma grazie frato ma grazie per tutto il benessere che mi date va bene lo sposo è esploso mi spievo su di una cosa ho preso un sacco di cose io c'è o tipo no io ti devo dire una cosa io ho ucciso una persona che c'era l'attomica nello scar silenziato leggendario a casissimo che mi pusha naturalmente no c'è raga io c'è solamente il il nome del video perché è impossibile che non lo possono mente questo è veramente impossibile raga c'era pure tre jump benessere che ma che benessere tutto quello che viene tutto in bocca mi danno tutto ma come ti viene in bocca mi danno tutte le cose proprio così solo perché sono del basso e io vado in pure in giro col motorino va il rino no se tu vedi mezzo all'acqua e visto il fiume pino vino pippi non vado col motorino e spiando e ci stanno quei cosi e stanno tipo quei rilevi se tu ti metti con il motorino su quei rilevi poi fai un motorino acquatico chi se ne frega poi facciamo una gara clandestina di motorini vincerò il death pool vero vincerà perchè dietro la tecnici tu sei inferiore al death pool eh io c'ho il primo che c'ho il death pool perchè c'è la piega di io so quello vero che scopo eh niente oh me niente non te dove di niente allora perchè ditte francesco è un po' così che verozza oh dio ma fatti cacchi tua e che spai comunque io e leo ieri abbiamo fatto oh per le net però abbiamo fatto una ricerca dei primi video dei youtuber più famosi e normalmente siamo andati su macciuscia solo una cosa andateli a vedere i video dei macciuscia i due primi video il primo si chiama colpi in cuore in classe si e poi shock se lei non è grossi and 5 se non sente aiuto fedeli ma ci sei se vivo a voi a te che ci sto se non parlerebbe e ora che ha messo un po' congi entrare no capisce non mi vuoi invitiamo che sto registra e sto fare la partita ma invitami tu allora no no vabbè no veramente lo devo mettere sta oh mi prometti una cosa che quando uscirà sto video lo vai a vedere è troppo bello quello che ho fatto con cioè ci stava un tizio con l'elicottero cioè è bellissimo no andrà a vedere non lo so ma poi mi farà veramente ride per quello che ho fatto è troppo buffino questa se la vinco ragazzi lo dico se la vinco fine qua e finisce già il video basta così oh no no vabbè oh e l'ho vinta fortuna e poi pure è stato bello il video ma che voglio più della vita che ne faccio tre scusate però calma io voglio che meno una cosa quello con il rampino c'è il singhiotto vabbè quello con il rampino eh tu cacchio è nato cioè è da terriore che mi zompava intorno eh eh lo so che te posso fare se c'è un 949 di vita l'elicottero eh eh è così la vita eh fa schifo il mondo fa schifo tutto no scherzo no no scherzo scherzo non so perché voi siete bambini bravi 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 applausi veramente non sono bambini bravi ragazzi se lì c'è qualcuno lo pusso direttamente con l'elicottero però l'unica cosa che mi dispiace veramente è che mi mancano ieri perché potevi fare il kamikaze andare in faccia alle persone sti elicotteri mmh sono belli però sono brutti perché c'erano c'erano le armi c'erano a cosa servono se non eh fa tu cito che non c'è niente ma come? ma no io ti vengo e ti vengono casa tu anche tutta la quarantena e ti uccide lo sai che io sono non puoi lasciare un verde ma tu sei? facciamo verde ma no no tutti sono in quarantena che? no a chi? a chi che cosa? che volevi dire? va in giro senza mascherine no io no certe persone sì non so tipo un bambino che stava a lei bambino sopra di da casa guarda io me la son messa entro i 300 200 non lo so però comunque si deve avere mascherine e guanti io non so come ho mai uscito ovviamente io sì oggi ho fatto andare ma scusa ma passeggiato oppure per cosa passeggiata per leone e andare su per la mia nonna e però non si deve parlare questo nel video seconda cosa ma rispettate a quanti anni i bambini possono prendere il coronavirus così quindi tanti anni sempre come appena nati possono prenderselo beh non si può succedere tipo a new york e molto un bambino di 5 anni questo cosa si deve sapere eh di coronari dai 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 coronari si deve sapere ma new york a dove sta? in america ecco e allora perché spider man non parla americano perché è doppiato ahhh non ho capito niente però ahhh allora spedermane parla italiano perché il film in realtà credo che americano però poi ci stanno delle persone che parlano sopra e spiderman e diventano la loro rocce di spiderman citto man citto man citto man sei citto te amazzo man che che figli che d'alta prostiglia se gli hai detto avrai troppo forma di crack pool detto di che 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 è un pollo oddio dette pollo detto ma tu dove hai mai visto il film the temple no io metà però lo vorrei vede un botto io pure però lo posso io lo posso vedere pure io però come se vede se le le di ma dai stai a di stico ma in testa e mezzetto mare last chiar mio francesco carmio tu hai una scar uno scar silenziato come epico no leggendario un po di nonno il solo tamburo ce l'hai con migliora per comprare il nonno come c'è il mio nome o cosa fanno lo scar non hai detto quindi poco l'ho fatto non ho detto scari ma l'ho detto non scari detto epico invece leggendario comunque non so guarda quindi uno scar ci sta che ho sbagliato la rarità per le punte mostro entrando nemmeno una cosa il popolo no vabbè ecco te lo qua ma vi inizia 9 9 9 di legno e stai messo bene e io sto da tre ore e poi sopra con l'elicottero vincila grazie che mi hai fatto sta cosa così eh mi piace ma prego prego ma che ti sei maniato eh niente l'erba come l'erba sai che i delfini si drogano ma perchè praticamente loro volontariamente giocano col pesce palla il pesce palla ha delle tossine che c'ho droga praticamente i delfini e quindi loro si drogano così i delfini l'abbiamo visto oggi alla tv i delfini erano dico oh ziii ma che cosa succede no vabbè e io che amavo i delfini eh te li amavi ma non so più quindi tu quando quindi tu quando non sei su minecraft i delfini si drogano che pesce palla nooo eh che grista cosa eh veramente non su minecraft non l'hanno messa perchè veramente io la ho ma che ne sai? eh l'ho visto con un programma della bbc ma che ne sai se i delfini non si drogano su minecraft? eh non lo fanno perchè proprio quei bambini mi butto, yeah, posso volare sono pro non è vero ho entrato l'acqua fa schifo il mondo è vero però è vero c'è entrato l'acqua questo gioco è finto non posso dire non compratelo perchè è gratis non prendetelo non prendetelo non sciuppate su questo gioco ho abbiato, basta, guarda un attimo sciuppate 3 euro intanto io mi tratterò guardate quel bellissimo elicottero che sta nell'acqua e fa spluccite e spluccite mmm che bello guarda spluccite e poi ma fatto 100 te danno a quella altezza pure mille ma spluccite e spluccite signori sto giochettarò si ha fatto dai cinesi ha fatto ha fatto dagli americani scusate eh ma gli americani vabbè gli americani ma ha detto quella cos'è death pool è tipo un uomo normale solo che è stato sottoposto ai raggi gamma per ucciderlo ma poi lui ha fatto ah sono invincibile quindi muocia l'autorigenerazione come cosa wolverine si è solo che lui non c'è gli arti ha delle pistole lanci scudi spade morte fa ed è bellissimo e adesso di francesco no aspetta ma death pool è tipo spiderman è solo che uccide e basta non è il tubo è un supereroe lo so ma pure spiderman è un supereroe però spedermine è più bravo perché c'è da niente vabbè spedermine è un ragno ho detto perché cos'è non è niente eh però sono praticamente uguali memorismo tutto va tutto tocco sei guarda il mio oh motorini motorini gara clandestina vai vincerò io vincerò io gara clandestina sto pure superato è perché mi sono girato gara clandestina gara clandestina gara clandestina ma no bene guarda hai sentito senti e io mi buto eppure yeah andiamo a mangiare pu 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 diventiamo grassi pu 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 no 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 lei è andata dal dottor un'usata da allora qui io vi sono una persona no che più mangiava dolci e più e più di dimagriva e più mangiava verdure più ingrassava a vista d'occhio un video è assai confuso non veramente ho visto mi schizio che ma io ho visto invece un video muori tizio strano un meme che praticamente c'era una pistola che diceva grava raggi voi siete tutto quello che mangiate e poi c'era ben tenne che sopra scritto cinesi che bello ma cinesi sempre entro in mezzo ve ma come si sono a mangiare cani serpenti ma boh ma i cinesi sono animalisti ma lo sai che vada a voi stessi come fanno scusi a ferme 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 ma cos'è stutticcio devo venire sì no sotterrato non deve venire no io allora ti lascio là tanto sei detto pure l'auto di generazione ma no francesco posso pure andarmene dal party e andare a farli a registra il video da solo no 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 stavo venendo vieni stavo scazzando stavo scazzando oh corri o me ne vado 3 2 1 vai no scherzo sto correndo ma non c'è sali sali che vai vai ma il nemesis corri scappa c'è il nemesis oddio vabbè ci volevo a me scappa la mamma vorresti passo di schifo vieni aiuto mi devi coprire i francesi devi coprire devi sparare loro signorina signorina venga qui signorina signorina signora che c'è l'ombrello io sono Mary Poppins ehm Mary Poppins è nata ma che Mary Poppins quando è nata tre anni fa che ne so ma no Mary Poppins Mary Poppins Mary Poppins esce tutto il ponte tu divertite col cosa de de Harry Mopin Harry Poppins è rimasto l'ho trovato pure io franci guardami mi dispiace rose o una francesco aiuto stanno sparando addio rose mi stanno sparando la barca io vado a balle che ha detto si può mirare con la barca no ma non lo sapevo però francesco e me lo dicimo esplodi esplodi dove il favore e volendo ma no mio qui ci sono levi aiuto di tanto abbassa no presi aiutato 22 papà amara amara sotto la bua e c'ero io la bua non è vero ma dai pure l'elicottero no e non ci siamo viene amore ma non mi servono mi sto per me di kit drogato ma basta no quanta già la rica anche i volti braccia aiuto all'uncinazione vabbè ragazzi credo per questo che per questo video è tutto vi ricordo di iscrivervi al canale mettere attivare goto la campanellina goto di attivare la campanellina e salte zitto attivando la campanellina e mettere mi piace a questo video ragazzi non vi preoccupate che che dopo questo francesco la bella pagherà ciao ragazzi saluta ciao pirlo saluta e grazie io